Quando sei disperato, diceva Masini, ma quante volte è capitato anche a noi di sentirci giù, di avere bisogno di un consiglio o semplicemente di sentire la mancanza di un amico che sappia ascoltarti. Finalmente c'è l'applicazione Amico Fedelo e il servizio parla pure con me. Basta dire al cellulare Ehi Fedo! e immediatamente parte una telefonata ad Andrea Fedeli. Così tu potrai raccontargli tutti i tuoi problemi, ansie ed angosce. Grazie alla sua capacità di fare dell'altro mentre tu parli, grazie al suo totale disinteresse per le tue vicende, Andrea potrà ascoltarti per ore senza rimanere minimamente coinvolto dai tuoi drammi e senza darti nessun inutile consiglio da amico. Il servizio parla pure con me tanto non me ne frega un cazzo è gratuito per chi scarica l'applicazione Fedelo, disponibile su Android e iOS. Ricordati, è importante avere un amico fedele, ma è più importante avere un amico fedelo.